no benvenuti ragazzi siamo in dar caso qui c'è stato e qui c'è dark via siamo o cazzo sta bellissima ok non dire parolacce quando siamo in diretta siamo su questa bellissima diretta televisiva mondiale sul canale 799 di skype vorrei chiedere ai produttori se mi trasportano sul canale 666 per poter fare anche le mie tutte le mie cose le mie messe sataniche che presento e niente ragazzi se volete venire in centro a treviso giovedì 4 settembre alle ore ma che cazzo mi spegni l'acqua tutto no a me e volevo un po' presentarci volevo un po' parlare di noi io sono asuli e dark mostriamo le nostre schiene per chiunque volesse adorado adorado adularci lui è il mondo il suo bellissimo muocco 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 più che altro sembra un trucco ma non lo so mi ascolto metallico allora niente andiamo avanti volevamo solo dirvi che siamo canale aperto da poco ma ne avevamo altri personali sui quali avevamo un pochino di scritti anche lì ma giusto tre o quattro proprio alla stramuzzo mentre adesso speriamo di fare un po' più successo con questo perchè siamo in due quindi due è meglio perchè uno è eccesso perchè due è più meglio due è più meglio di uno ok a parte questo io credo che farò personalmente adesso ci descriviamo un po' giocheremo noi giochiamo a giochi di solito come i quali sono minecraft quake con real tournament abbiamo lasciato code perchè fa veramente schifo adesso stavamo pensando di andare a giocare a serious m2 in hd e niente si è giocata a code siete delle merde potete andarvene anche a fare in culo no dai scherziamo no no allora a code ci abbiamo giocato anche noi ma abbiamo bisogno di un po' più di sfida per essendo code comunque un gioco che dopo un po' rompe il cazzo essendo un gioco di merda e abbiamo iniziato a giocare a quake quindi niente io farò più che altro tutorial ho già preparato qualche tutorial su delle trappole che sono utilizzabili sia in singolo che in multiplayer così chi vuole le usa come vuole ho sbagliato devo rifare niente così e adesso lascio un po' la parola a dark così vediamo cosa allora faci vedere che belle cose sto creando facendo allora qui c'è l'anarchia qui abbiamo una croce rovesciata adesso ti aiuto anch'io dai intanto di quello che farai tu allora io farò cosa farò farò puttanate no allora faccio tutorial gameplay di cose c'è di minecraft forse ne farò qualcuno di quake di un real se riuscirò anche di sirius sam spero perlomeno poi boh ho deciso più avanti di fare un tutorial tutorial slash download download texture patch perchè io dico patch perchè l'ho personalizzato io quindi se me lo rubate mi mando la mafia a casa e non sarà una bella sorpresa e comunque una nuova texture patch naturalmente in hd full hd 1080p 3625 f9 vabbè e dove naturalmente metterò anche al posto delle zucche metterò la faccia di una puttana perchè è molto più bello tipo scrivetemi nei commenti se preferite come la end sono carmen elettra e niente i creeper saranno dei sudici bastardi e non imitare gente che non è cioè che è tipo al di sopra delle tue potenzialità mentali e psicologiche e fisiche e no niente comunque si come ho già detto prima video tutorial poi faremo sicuramente un survival scusate ma mi ammazzo faremo sicuramente un survival di minecraft assolutamente no 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 di minecraft no perchè è un gioco di merda non dovete giocarci state attenti se no vi muoci ok bene vieni a fare le corna al creeper si faccio le corna al creeper una due faccio le corna a ferra da corluto perchè sono morose una puttana and ok il creeper è un gioco di merda come tu ti sa il creeper esplode nooo le corna le corna fottute le tolgo del tutto bene e ciao a tutti ragazzi e a un a un prossimo video ciao ciao Bye-bye.